Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Toukens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video andiamo a prendere il Fortnite numero 34, da come potete leggere si trova tra la forchetta ed il coltello. Come sempre però, in prima del video vi invito a lasciare un bel pollice in su, a commentare con l'hashtag e salutami se nei prossimi video guida volete essere salutati, a condividere il video con i vostri amici e ad iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche di tutti i video guida. Se i miei video ragazzi vi sono utili e al tempo stesso mi volete dare una mano con la crescita e lo sviluppo del canale, nel negozio oggetti potete inserire il mio codice creatore, il codice Toukens. A proposito ragazzi, qui sotto in descrizione potete trovare i link di due playlist. Nella prima playlist ci sono tutti i Fortnite accessibili all'interno della mappa del gioco, mentre nella seconda ci sono le sfide più complesse del pass battaglia. Quindi se non sapete dove si trova un Fortnite oppure, come si porta al termine, una sfida settimanale potete trovare il link del relativo video dentro la playlist. Come detto quindi adesso ragazzi andiamo a prendere il Fortnite numero 34. Per prenderlo ci dovremo lanciare nei pressi di lande letali, precisamente sotto la piattaforma. Qui ragazzi sotto questa piattaforma c'è la forchetta ed il coltello. Per prendere il Fortnite dovete andare dentro il sottopassaggio che li collega. Quindi ragazzi come sempre spero che questo video vi sia stato utile, commentate e lasciate un bel pollice in su, condividetelo con i nostri amici e iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto, io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo!